Benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video sul mio canale Siamo arrivati qua per andare a parlare della partita di oggi di Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti perde per 4-6-3-6 6-4-6-3 Dovrebbe aver perso Allora, commento a caldo della partita Beh, beh Ce lo si poteva aspettare Nel senso che Musetti ha giocato partite Tra cui alcune intense Come il primo round Per dirne una Nella finale ovviamente con Alkeraz Ad Hamburgo Poi pausa di un giorno tornati in campo Pausa di un giorno tornati in campo È un po' difficile così Cioè nel senso, ok va bene che Germania e Croazia Geograficamente non è che stiano agli estremi Però comunque un altro viaggio Quello, quell'altro Era stanco Ce lo si poteva aspettare Era molto difficile che Musetti potesse veramente Vincere anche questo titolo Secondo me Era già molto difficile pensare che potesse fare semifinale Ma non per le qualità tecniche Perché il semplice fatto è che questi tornei essendo così vicini Se poi tu arrivi in fondo al primo Al secondo non ci arrivi full Non ci arrivi con l'energia al massimo Nemmeno vicino al massimo E questo è quanto è successo Cecchinato ha giocato un'ottima gara Musetti ha giocato male Ma perché era stanco Ci sta Adesso non è importante La terra La prestazione che ha fatto Musetti sulla terra Interessa quella che farà sul cemento Perché Perché adesso si passa al cemento E poi Per tornare Si passa al cemento per Per otto mesi Da agosto Ad aprile Ad marzo Dell'anno prossimo Tutto cemento Tutto cemento Tutto Solo ed esclusivamente cemento E quindi Così è stato Io Mi aspettavo Sì Mi aspettavo che vincesse Musetti Ma non mi aspettavo che andasse oltre i guardi Quindi diciamo che era abbastanza preventivabile Questa Questa sconfitta Di Musetti Peccato sì Però comunque L'importante adesso È fare bene I tornei americani Non penso che vada a giocare a Washington Fonsi lui Fare direttamente il 1000 Fare direttamente Canada Perché Washington è troppo attaccato Adesso bisogna riprendere le energie Concentrarci Concentrarsi Sulla stagione Del cemento Nord americana E non Lasciare stare Quello che è successo Sulla terra Va bene così Non è un disastro Se avesse perso L'Hamburgo Al primo round Per dire che ha dovuto salvare Due match ball Sarebbe stato Molto peggio Ovviamente Quindi va bene così Adesso Ricaricarsi Avere l'idea chiare Per l'associare sul cemento E pensare D'altro campo Musetti D'altro canto Cecchinato ha giocato Un'ottima gara Poco da dire Molto bravo Molto solito E soprattutto Molto bravo Di sfruttare un'occasione Che anche per lui È importante Perché comunque Sfidarono Musetti Reduce da Cinque partite L'Hamburgo E una Qua Ad un mago Praticamente aveva giocato Sette partite in dieci giorni Questa era la settima in dieci Sì Dovevi sfruttare questa occasione E riuscite a sfruttarla E così È stato Ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per la vostra visualizzazione Per la vostra visione Non dimenticatevi Di vedere il video Ovviamente Fino alla fine Di iscrivervi Al canale Siamo vicinissime 100 Siamo arrivati a 97 Lasciare mi piace Essenziale Dobbiamo raggiungere Molti mi piace Sono contento Perché ultimamente In ultimi video Il canale Sta andato una bomba Abbiamo fatto Quasi mille visualizzazioni Nel video Della prima partita Di un mago Di Musetti Abbiamo fatto ieri Un po' peggio Ma comunque 140 visualizzazioni Per me Sono una quantità enorme Like Non ne facciamo ancora tantissimi Comunque Va benissimo Iguale È normale Cerca di lasciare mi piace Iscrivetevi Ragazzi Iscrivere Iscrivervi E attivare la campanellina A voi non costa niente Ma Alla persona Che sta dall'altro lato Dello schermo È una mano dal cielo Iscrivetevi Essenziale Riamo I certi iscritti Prima di US Open Secondo me Potete farcela Anche prima di Montreal Credo in voi Cresciamo sempre di più Che Un giorno saremo In top Classifica Lasciate mi piace Commentate Commentate Ragazzi Perché voglio sapere Quello che ne pensate Noi ci vediamo Alla prossima Commentate Perché è importantissimo Perché si può avere Un contatto Diretto Con Tra Visualizzatore Tra seguace E Info Non mi chiamo Ancora Penso Ovviamente E tra Si può avere Un contatto Diretto Tra quello che fa il video E quello che li vede Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao